Sono passati 85 anni da quando Mario Rapelli aprì la sua prima bottega da salumiere a stabi. Nel frattempo il mondo è cambiato e anche Rapelli ha dovuto trasformarsi, ma sempre con un occhio attento alle tradizioni locali. In Ticino c'è un grande vantaggio. Noi siamo un po' i portabandieri della ticinesità ultra-alpe. Da sempre Rapelli è riconosciuto come appunto il made in Ticino. Noi ci rifacciamo a delle ricette tipiche ticinesi e quando dico ticinesi è chiaro che vuol dire dell'insubria e questo è sicuramente un vantaggio. Lo svantaggio è che siamo chiaramente lontani dal nostro mercato principale che è la Svizzera tedesca. Produciamo su due siti, sempre qua a Stabio, un sito principale dove abbiamo praticamente la maggior parte delle produzioni quindi dalla tecnologia di produzione del salame, che è tipico di Rapelli, la produzione dei cotti, la produzione delle salagioni crude e da ultimo la gastronomia. E poi abbiamo un secondo sito dove ci troviamo attualmente, dove produciamo un unico prodotto che è il nostro San Pietro che è un prosciutto crudo stagionato all'osso come si vede bene da queste immagini e lì abbiamo delle stagionature che variano dai 12 mesi fino ai 18 mesi. Produzioni tradizionali oggi fanno il paio con tecnologia, innovazione e macchinari ma chi lavora in Rapelli da 34 anni sottolinea come la mano dell'uomo resta il valore aggiunto insostituibile. Una volta sicuramente qui c'era molto meno macchine di quello che si vede oggi. Le macchine hanno la possibilità di togliere dalla forza fisica. Logico che la nostra esperienza ha portato la macchina a sostituirci ma in un modo giusto come si fa con le mani. Quindi l'esperienza è dovuta proprio a darci una mano. E tra mille esperimenti della ricerca e sviluppo il parere di chi lavora in produzione rimane sempre un elemento fondamentale. La ricerca e sviluppo ha un cordone umbilicale con la produzione. Proprio per questo perché la ricerca e sviluppo lavora su dei dati. Sui dati dove l'esperienza dell'operatore che lavora al tavolo viene praticamente portata. Buonasera e bentornati a Made in Ticino. Continua il nostro viaggio per raccontare le aziende del nostro cantone e soprattutto le persone, gli imprenditori, i manager che lavorano in queste aziende. Oggi facciamo tappa in un settore particolare. Lo avete già visto dalla copertina e allora andiamo subito a parlare con Glauco Martinetti, direttore dell'Arapelli. Lei ci ha portato qua anche un po' il frutto del vostro lavoro. Come si arriva a questo bel prosciutto? Si arriva con anni di esperienza, si arriva con tentativi magari anche falliti all'inizio, si arriva con del personale che ha delle grandi capacità, si arriva con una materia prima che deve essere salubre, che deve essere di grande quantità, in alta quantità, qualità e poi si arriva con molto tempo perché è matura per più di 18 mesi. Ecco, voi fate diversi prodotti, non fate solo prosciutti? Sì, l'Arapelli è una ditta abbastanza storica di cinese, quindi 85 anni di esperienza, partendo dalla piccola macelleria, quindi da quello che era un po' il discorso dei salumi tipici, dal salame, dalle luganiche, poi da lì è partito effettivamente un ventaglio di prodotti, ci sono diversificati. Ecco, qual è il vostro mercato principale? Il mercato è Svizzera, quindi tutta la Svizzera, direi in primis l'asse del Gottardo, quindi quei cantoni che sono particolarmente amici e vicini al Ticino, quindi penso subito alla Svizzera centrale, a Lucerna e poi Salendo, Zurigo, Argovia, fino a Basilea. Siamo anche, credo, abbastanza ben presenti sulla parte romanda della Svizzera, quindi siamo distribuiti praticamente in ogni angolo di Svizzera. Ecco, Sandro Volontè dell'Associazione Mastri Macellai Salumieri. La Rappelli si rivolge principalmente al mercato della Svizzera interna, come stanno i nostri macellai e salumieri ticinesi invece? Intanto macellaio e salumiere non sono due professioni diverse. All'inizio un piccolo macellaio faceva... Bisogna dire macellaio e salumiere. Bisogna dire macellaio e salumiere, non siamo due cose diverse, ma in partenza il macellaio era anche salumiere, quindi gestiva la carne e anche i suoi prodotti di macelleria in piccolo. Oltretutto anche la professione si chiama macellaio-salumiere perché si insegna le due cose. Poi il salumiere, se si è specializzato col tempo nel fabbricare salumi, aveva tutto il mercato della Svizzera interna davanti finché i tedeschi, i svizzeri tedeschi non producono, consumavano, hanno conosciuto e quindi la partenza è stata dal Ticino. E oggi come stanno? Oggi i nostri clienti di una volta sono diventati concorrenti loro stessi e la tecnica permette anche a loro di fabbricare e quindi o che il salumiere diventa un arapelli o che se no si specializza nel suo piccolo a fare delle specialità. Ecco, torneremo sul tema della specializzazione. Martinetti, io torno da lei perché in questa trasmissione non parliamo solo di numeri di mercati ma vogliamo parlare di persone, di imprenditori, del loro percorso e delle scelte che devono fare ogni giorno. Lei tra l'altro ha un percorso di formazione molto particolare perché ha fatto agraria e quindi questo oggi le serve nel lavoro che fa di direttore. Sì, assolutamente. Sì, ho studiato agraria a Zurigo. È vero che normalmente come direttore di un'azienda di prodotti alimentari è più il tecnologo alimentare che è votato a questa professione. Mi serve molto perché proprio nel settore della carne conoscere l'origine della carne, conoscere l'allevatore è molto importante proprio perché può cambiare la qualità stessa della carne. Quindi lì sono vattaggiato perché conosco proprio anche le problematiche dei miei fornitori. Ecco, ci sono anche dei valori nel mondo contadino che sono poi importanti da portare in azienda. Sì, io penso che tra l'altro la famiglia, proprio il senso di famiglia, questo io l'ho sentito molto, soprattutto all'inizio quando sono entrato in Drapelli ed è veramente una bella sensazione. Penso che arrivi anche proprio con la vicinanza al mondo contadino che è un mondo che si attacca ancora a certi valori tradizionali ma comunque con dei bei valori di appartenenza alla famiglia. Ecco, lei diceva prima, la Drapelli ha una lunga storia alle spalle. Come è stato per lei, quando è diventato direttore, rispettare questa tradizione, però portare anche la sua impronta, la sua innovazione? Che cosa ha cercato di mantenere? Che cosa ha cercato invece di portare come sua esperienza personale? Ma credo che arrivare in un'azienda che ha una storia, che ha una tradizione, siano dalle radici che non devono andare perse, da lì si può costruire. Io penso che oggi la Drapelli guarda saldamente al futuro, abbiamo innovato sia in campo dei prodotti ma anche proprio di tecnologie e questo è estremamente importante. Stiamo portando un discorso di marketing, di vicinanza al prodotto territoriale e anche di come ci vogliamo presentare come azienda e questo è quello che credo io ho portato e sto portando attualmente in azienda. Ecco, un punto a cui li crede molto è il recupero delle tradizioni locali perché magari chi non si occupa di questo settore ma anche chi consuma questi prodotti non sa che ci sono stati momenti diversi. Cioè c'è stato un momento in cui la chimica trionfava e adesso c'è una nuova fase in cui diciamo si ritorna con una sicurezza diversa che oggi ci possiamo permettere a riscoprire le tradizioni locali. Certo, penso che il discorso della tradizione non è difficile da riscoprire ma riscoprire una tradizione con un prodotto sicuro e salubre è una qualche sfida in più. Oggi è vero che abbiamo, negli anni 80 abbiamo avuto una situazione dove i numeri E la facevano da padrone. Ecco, oggi abbiamo una situazione dove effettivamente siamo riusciti a ripulire e uso volutamente questo termine, ripulire le nostre ricette e abbiamo delle ricette veramente pulite. Va detto però che appunto l'innovazione tecnologica delle macchine ci porta anche a questo fatto, quindi ad avere una salubrità di luoghi che ci porta una salubrità di prodotto senza bisogno di intervenire con dei numeri E. Però il recupero della tradizione vuol dire anche sperimentare prodotti nuovi. Lei mi raccontava quando sono venuti in azienda che fate continuamente tentative, alcuni prodotti sono già sul mercato, altri invece, come succede sempre in un'impresa, falliscono e quindi si fermano lì. L'innovazione è importantissima. Forse noi vediamo più l'innovazione di prodotto, il consumatore, il nostro cliente vede soprattutto l'innovazione di prodotto che è importantissima, che deve essere sì tradizionale, quindi allacciarci a questa tradizione, ma dobbiamo continuamente innovarci. C'è poi l'innovazione di flusso, di processo, di produzione, di macchinari che tante volte il consumatore o sovente il consumatore non vede, che è anche altrettanto importante. Ecco, lei ha tre figli, visto che è così fissato con la tradizione locale, devono sempre mangiare prodotti sani oppure ogni tanto si può anche provare altro? No, no, a casa nostra, penso che c'è un bel equilibrio tra le Luganiche e il kebab senza nessun problema. Penso che sia importante anche e fa parte del vivere moderno, del vivere attuale, quindi guai a chi... Non bisogna essere talebani. Non bisogna essere talebani. Sandro Volonte, la storia della sua famiglia in qualche modo ha scritto la storia dei macellai salumieri in Ticino e tra l'altro voi siete anche legati alla Rapelli per una storia particolare. Sì, il nonno Carlo è venuto, ha aperto la ditta, per esempio la ditta ai tempi, nel 1909, poi ha fondato con altri salumieri abbiamo qua anche foto d'epoca i vari guindani, casa grande, facchinetti dei tempi, l'associazione svizzera dei fabbricanti di salame, per quello che dicevo prima, svizzera ma erano all'inizio quasi tutti ticinesi e nel 1931, un certo Mario Rapelli, avete qui la lettera dove richiede di essere ammesso all'associazione dei salumieri perché a quei tempi fabbricava già ben 80 chili alla settimana di salame. Ed è stato ammesso. È stato logicamente ammesso ma oltretutto a quei tempi c'era molta collaborazione e Rapelli chiedeva al nonno consigli e quindi è stato aiutato e consigliato naturalmente di entrare nella società. Ecco, in qualche modo adesso questa collaborazione è tornata con Martinetti mi raccontavate prima che adesso c'è anche se ovviamente fate non dico dei mestieri diversi sono due binari paralleli e devo dire forse grazie proprio a Martinetti c'è molta più collaborazione di una volta nonostante che il grande e il piccolo un pochettino di concorrenza è normale che si facciano però a livello di formazione la Rapelli non ha mai collaborato come in questi tempi. Ecco, ovviamente per quanto riguarda il vostro mercato come dicevamo prima loro esportano nella Svizzera interna per voi è diverso e non ci dobbiamo nascondere che c'è la concorrenza dei negozi oltre frontiera. Ecco, ci sono degli elementi che però ancora ci distinguono dagli altri macellai. Qui bisogna dire di fondo la ragione per cui la carne del macellario svizzero è più cara di quella all'estero non solo in Italia ma anche le altre nazioni vicine è che la legge sull'agricoltura protegge l'agricoltura svizzera quindi il prezzo di partenza il prezzo d'acquisto della materia prima quindi del bestiame per il macellario e anche per il salomiere è molto più caro se non il doppio di quello dell'estero. Quindi partendo da un prezzo già doppio in partenza a parità di costi se poi i costi sono pari questo è un altro discorso è chiaro che il prodotto finale costa di più. Però dopo non c'è soltanto il costo ma c'è anche la nostra qualità il controllo il chilometro zero la sicurezza e poi bisogna dire una cosa di differenza tra la carne svizzera e italiana non è che magari un macellaio o un salomiere italiano possa avere anche carne buona anche lui ma la tendenza all'estero è quella di non far frullare la carne ecco questo è un elemento che tutti io non lo conoscevo quando mi aveva raccontato la carne bella fresca appena macellata è bella rossa lucente quella frullata è più scura quindi io dico la carne fresca è più dura la carne frullata è più buona bisogna saperlo quindi oltretutto per il macellaio è un costo perché la carne viene stoccata per due tre settimane per farla frullare e questo è anche un costo ecco un piccolo aneddoto se vuole in un altro gruppo si fa una gita in Italia c'è sottoscritto un altro macellario tutti dicono oh che bella carne andiamo a prendere la fiorentina io guardavo era una fiorentina bellissima rossa un po' grande quindi noi sappiamo che magari l'animale non era giovanissimo la fibra un po' grossa idem e dico non comprate due o tre settimane dopo quando si sono ritrovati abbiamo sentito di tutti i colori per il futuro il consiglio era dell'altro quindi il consiglio per il consumatore è chiedere se la carne è frullata e qua in Svizzera siamo sicuri che la carne è frullata ecco però mantenere questo sistema vuol dire anche mantenere un territorio di un certo tipo cioè allevamenti non di grandi estensioni quindi alla fine quando compriamo un pezzo di carne vuol dire che paghiamo anche per un tipo di territorio che oggi abbiamo ancora in Svizzera è chiaro che il macellaio locale piccolo non possiamo dire che ha la vita facile però oggi il macellaio è il consulente il confessore del cliente del consumatore l'importante è che il consumatore non si accorga che c'è il macellaio soltanto quando ha dimenticato il burro o ha dimenticato 50 grammi di prosciutto perché quel giorno poi che va a cercare il burro e 50 grammi di prosciutto magari il macellaio non c'è più certo e quindi bisogna mantenere questo rapporto mantenere questo rapporto però per quanto riguarda il vostro settore c'è un'annosa questione quella del il macello ticinese non c'è stato per 20 anni oggi c'è però c'è chi dice costa troppo ecco qual è il valore aggiunto di avere un macello ticinese tanto non è che non c'è stato per 20 anni c'è stato per 100 anni poi l'hanno tolto e quindi la cosa un po' cambia oltretutto lì nella storia dei macellai il nonno ha avuto il suo peso con anche litigi con il comune quando c'erano questioni di tariffe e poi c'erano Chiasso Locarno e Lugano e Mendrisio 4 e quindi tolto il macello non si chiude più la filiera diciamo l'obbligo il macello era un macello pubblico quindi con l'obbligo di macellare e questo ha tolto l'iniziativa privata di fare altri altri macelli no quindi ci siamo trovati a zero per 20 anni come diceva lei e lì sarebbe lunga la storia ma diverse battaglie tutti assieme il macello si è stato fatto è stato fatto in un posto dove era conveniente farlo perché c'erano dei presupposti è stato fatto secondo le indicazioni del veterinario cantonale quindi con il minimo di dimensioni necessarie per questo tipo di macello e quindi anche i costi non erano sproporzionati se non che sono stati poi degli aumenti dovuti poi a delle regole del mercato di igiene e veterinario eccetera il macello dicevamo prima secondo me è la denominazione che porta a non far capire che cosa è il macello come la parola macellaio disturba cioè dovremmo cambiargli l'etichetta dovremmo chiamargli il venditore di carne salumi per dire no perché dà più l'idea quindi il macellaio dovrebbe essere il luogo dove ci si procura la carne che tutto il cantone mangia quindi non un macello è una struttura dove ci si procura la carne per tutto il cantone questo per far capire che i macellai la rappelli tutti i macellai possono fare benissimo a meno però è un valore aggiunto per il territorio per il territorio per avere carne nostrana ticinese la sicurezza il controllo ecco tra l'altro Martinetti proprio la sicurezza è un altro elemento importante avere un luogo unico dove si macella sì chiaro io penso che il primo ad avere interesse in questo senso è proprio il governo stesso proprio il cantone ticino di avere un luogo in cui ho la concentrazione dell'abbattimento delle bestie ho un vetrinario che mi controlla tutte le carcasse e tutti gli animali e questo mi garantisce chiaramente una salubrità della carne che poi vende all'interno del paese ma se mi permette vorrei ritornare sul discorso della territorialità cioè è importantissimo se non abbiamo un macello non abbiamo un allevamento se non abbiamo un allevamento non abbiamo i contadini se non abbiamo i contadini non avremo il territorio non abbiamo il territorio curato quindi è importantissimo di avere un macello all'interno del cantone ecco fermiamoci qua e torniamo un attimo in azienda e sentiamo le voci di altri due ragazzi molto appassionati della Rapelli ho visto come veramente la vita in cucina e ho preferito andare in macelleria non è semplice però nel senso è molto meno nervosa la vita della macelleria ho sempre avuto la passione di lavorare la carne anche quando facevo il cuoco e smettendo di fare il cuoco ho deciso di affrontare l'apprendistato di macellare che la passione sia ancora un componente principale del lavoro lo testimonia proprio Andrea ha partecipato a un concorso in stile MasterChef e con un'idea innovativa ha sbaragliato la concorrenza inutile dire che la carne era il centro delle sue ricette questo concorso era praticamente davano un pezzo a tutti uguale di carne erano delle costolette di carne veniva e tu dovevi scegliere come cucinarle io ho fatto un'arista aperta completamente tipo foglio e ho messo una farcia ai pistacchi che quando veniva richiusa e legata veniva una spirale verde che era molto carina da vedere sul piatto era molto buona e se non sono tanti i giovani che si avventurano su questa strada chi è iniziato non tornerebbe indietro vedere il frutto del proprio lavoro dà sempre una grande soddisfazione è bello anche avere soddisfazioni a stare magari in un supermercato e dire cavolo questa lama è la ditta che magari può essere legato io invece in ufficio si sono pratiche da sbrigare però non è niente di manualità da fin fine sai all'inizio appena iniziato avevo anche magari un po' di timidezza a dire faccio un macellaio però adesso sono fiero orgoglioso del mio lavoro è veramente un bel lavoro posso anche dirvi consigliarlo ai più giovani perché non è molto calcolato si vede che sono sempre meno apprendisti la passione di questi ragazzi la si leggeva negli occhi quanto è importante avere ragazzi che vogliono intraprendere questa professione per il futuro è basilare è basilare è chiaro che una struttura come noi ma pensiamo che prima ce l'ha i privati avere apprendisti che continuano la professione è basilare perché la professionalità l'attaccamento al territorio l'abbiamo parlato ma la professionalità è qualcosa di basilare noi qui abbiamo un sistema formativo in Svizzera che è veramente l'avanguardia quindi il fatto di passare dei giorni a scuola passare dei giorni in azienda e qui l'associazione veramente fa un lavoro gigantesco sia a livello svizzero sia a livello cantonale per garantire questa formazione e quindi noi ci spieghiamo veramente che la nostra professione sia nuovamente apprezzata da parte dei giovani ecco Volonteo è un lavoro importante che fate spesso però manca il messaggio alla fine che questo lavoro è cambiato come ci dicevano loro i miei amici non conoscono come un lavoro sì sì aveva un po' l'impressione che forse è stata un'epoca in cui tutti bisogna andare in ufficio ecco quindi per certi periodi un certo periodo era una professione di transito dove poi uno andava a finire in ferrovia in posta tanto di avere un diploma mentre oggi si riscopre più la qualità e anche la difficoltà in fin dei conti della professione perché lo sforzo in mani che si fa sempre per pochi apprendizi perché poi in Svizzera in Ticino rispetto alle misure delle altre nazioni si lavora tanto per pochi ragazzi però le difficoltà sono date anche dal dover apprendere le nuove regole dell'igiene delle prescrizioni sempre più difficili che sono sempre di più io sono in pensione da diversi anni ma se sono ancora vicino alla professione è proprio perché vedo le difficoltà che ci sono per sopravvivere a livello proprio di regole per tenere aperta una bottega quindi la formazione è doppiamente importante che il ragazzo deve essere preparato sia come dipendente e poi un giorno essere indipendente ecco voi investite tanto nella formazione ma si trovano giovani che hanno voglia di fare questo lavoro qua in Ticino e qui la domanda varie volte specialmente alla Rapelli che è vicino una frontiera è un po' altalenante probabilmente la situazione ci sono degli anni che si trovano i ticinesi e però sono sempre di più i frontalieri che vengono a imparare da noi forse lui ne sa di più sì penso che c'è un discorso anche geografico quindi il vaccino d'utenza del mendrisiotto luganese non è per forza il vaccino d'utenza giusto per apprendere la professione di macellaio nel senso che nelle valli c'è probabilmente ancora un po' più attaccamento al settore primario e quindi tendenzialmente nelle valli si ha qualche apprendista in più ci sono anche più macellai ci sono anche più macellai però questo ci dice anche che ci sono invece opportunità per chi volesse farlo visto che non sono tanti visto che voglio dire noi abbiamo il mese di settembre quest'anno hanno iniziato da noi due nuovi apprendisti l'anno scorso ticinesi l'anno scorso hanno iniziato tre apprendisti quindicenni entrambi frontalieri perché non abbiamo trovato apprendisti ticinesi interessati alla professione in un raggio geografico che potesse funzionare è chiaro che l'apprendista di Airolo non viene a fare l'apprendistato a Stavio questo mi sembra evidente ecco torniamo sul legame del territorio per concludere voi come vi diceva prima siete legati alle tradizioni locali ma anche al territorio aprite l'azienda per fare delle visite fate iniziative per far conoscere meglio questo settore diciamo che aprire l'azienda è difficile oggi con tutti i regolamenti effettivamente di qualità e norme igieniche è molto difficile aprire l'azienda non abbiamo mai organizzato una giornata dalle porte aperte ecco questo non è possibile però per esempio abbiamo dal secondo anno abbiamo un'attività al castello di Belinzona dove lasciamo affinare una parte una piccola parte dei nostri salami lì abbiamo organizzato la legatura del salame quest'anno abbiamo avuto tra l'altro visto Mirko con che velocità legava il salame è impressionante abbiamo avuto più di 1400 iscritti per poter fare una giornata di legatura del salame siamo riusciti a contentarne 600 quindi la richiesta c'è le persone i consumatori vogliono sapere cosa avviene all'interno della produzione questo è fantastico bene abbiamo finito il nostro tempo a disposizione speriamo di aver dato qualche elemento in più grazie